questo programma è offerto da arti sonanti media musicali di Ernesto Giannotta il gusto che suona è arti sonanti piazza Vittoria Emanuele II Catania telefono 095 35 23 711 centro commerciale edile smontaggio amianto e bonifica sito linea vita sistemi anticaduta lavorazione ferro trasporto conto terzi materiale edile strada provinciale per San Giovanni Galermo 167 A Mister Bianco Catania per sopralluoghi preventivi gratuiti telefona 095 744 2740 il tuo centro commerciale edile www.ccedile.it Baccalluzzo e Venti la pirotecnica scenografica lo spettacolo si veste di oro solo da Baccalluzzo e Venti via Enrico Pantano 47 Catania telefono 095 715 0414 sport e non solo la rubrica di Armando curiosità dal mondo sportivo a cura di Armando Garufi sportivissimi sportivi buonasera a tutti da Globus Radio Station buonasera da Armando Garufi stasera una trasmissione atipica atipica perché? perché generalmente si dice dal serio al fascetto stasera invece andremo dal fascetto al serio perché abbiamo una trasmissione divisa in due parti e vabbè poi capirete nel corso della trasmissione intanto cominciamo con il fascetto cominciamo con il ballo un ballo molto interessante è un ballo anche competitivo si fanno delle gare ci si diverte tanto parliamo della Sicania West Country naturalmente parliamo di ballo country lo facciamo con alla mia destra la maestra Tiziana Anastasi ciao grazie innanzitutto per averci invitati con Manuela Pecorella di fronte a me e con una vecchia conoscenza Rosario Catania che saluto con piacere buonasera a tutti buonasera a tutti allora stasera diciamo subito che per quanto riguarda voi è un'anteprima perché poi al più presto faremo una trasmissione molto più ampia da dedicare a voi ma intanto incominciamo a conoscervi e ovviamente per incominciare a conoscervi cominciamo a fare le prime domande alla maestra Tiziana Anastasi allora quando nasce questo gruppo perché nasce quanti sono i componenti diciamo quello che sono le basi allora il gruppo diciamo che nasce tre anni fa in realtà non è la data reale perché nasce come nome Sicania West tre anni fa però esiste già da un sei anni sotto forma anche di altri elementi che sono nel frattempo entrati e subentrati dopo diciamo che siamo più o meno una sessantina, settantina di allievi iscritti più simpatizzanti amici e parenti nasce qui a Catania nasce assolutamente a Catania tra l'altro abbiamo scelto in una fase di cambiamento abbiamo scelto un nome che comunque ci lega tanto alla nostra terra in un momento che in Italia comunque tutti i gruppi hanno un nome tipico Western West Country voi ci avete il termine country però West però c'è questo Sicania che ci riporta alla nostra alle nostre origini esatto lo facciamo anche perché in una fase di competitività noi gareggiamo facciamo competizione a livello nazionale anche internazionale e noi portiamo sempre con noi la nostra terra soprattutto perché comunque da anni deteniamo il titolo di campioni italiani ah perfetto so che siete un bel gruppo dove hai appena detto siete un gruppo proprio nascete in una settantina o un'ottantina ma queste persone fanno tutte parte del gruppo oppure sono andate un poco spaziando anche in altri in altri lidi fanno parte del gruppo però con tanti altri gruppi del territorio siamo abbastanza uniti noi capita che ci incontriamo facciamo dei raduni uno di recente l'abbiamo fatta le capennine per il 21 aprile che l'abbiamo chiamato non solo country day proprio per dar spazio anche comunque ad altre persone che sono simpatizzanti del country del mondo country però appartengono anche ad altre tipologie di discipline o musica anche e quindi ci siamo radunati la diversi gruppi del territorio di Catania fino a Palermo che sono venuti a trovarci eravamo 200 persone più o meno 250 persone ci siamo divertiti al ritmo di country music tutti insieme allora il gruppo è soprattutto un gruppo quindi si balla in gruppo però mi risulta che non esiste soltanto il ballo di gruppo nel West Country c'è anche il ballo di coppia e a questo punto rivolgo la parola a Manuela Pecorella e a Rosario Catania che sono la coppia o una delle coppie di questo gruppo siete più di una coppia o siete la coppia del gruppo un poco come il solista nella pattuglia acrobatica aerea no siamo più coppie naturalmente siamo in categorie ci sono fasce di età e quindi diverse categorie noi siamo nati da poco come coppia io arrivo nella Sicania naturalmente come ballo in country line dance man mano esiste anche il ballo singolo quindi faccio anche il ballo singolo e spiegamelo questo del ballo singolo quindi ballo di gruppo ballo di coppia ma c'è anche il singolo il singolo che balla per i fatti suoi ripeto come la pattuglia acrobatica quando c'è il singolo che fa le sue esibizioni mentre il gruppo fa la pattuglia fa l'altra esibizione in contemporaneo oppure proprio un'esibizione da solo no allora la coreografia è uguale per tutti ma diciamo che si va in gara soprattutto perché i balli singoli vanno vanno fatti in gara perché naturalmente poi per le varie manifestazioni si va si va in gruppo il bello del country è vedere la line dance il gruppo che si muove all'unisono invece nelle gare si ha la possibilità di far vedere la propria bravura e quindi comunque la coreografia è per tutti uguale ma naturalmente diciamo si greggia per per il ballo singolo adesso io faccio una domanda alla maestra perché mi rivolgo a Rosario Catania Rosario Catania ha una vecchia conoscenza perché ha fatto il famoso record di camminata 70 ore 70 ore per quanto riguarda appunto il nord walking e come ballerino come come ballerino ci ha stupiti perché lui è arrivato con un pezzo di legno e che lui cammina 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 tantissimo però è un pezzo di legno in una posizione sempre perfettamente mobile è un tronco che cammina per il ballo all'inizio non era così sciolto così disinvolto comunque ci ha sorpresi perché abbiamo dovuto preparare in pochissimo tempo delle competizioni importanti lui si è voluto mettere in gioco e nel giro di pochissimo tempo è riuscito a portarsi a casa un titolo regionale per quanto riguarda questo ballo che si chiama two step il ballo di coppia in questa disciplina di ballo country nonché è venuto con noi alla gara nazionale a Pordenone dove di non avete fatto il two step ancora no ancora a Pordenone no dove di devo anche chiedere perché non mi ricordo la Coppa Sicilia mi ha partecipato alla Coppa Sicilia però sono andati a vedere un po' quello che faranno postivamente perché adesso gli tocca aggreggiare anche il nazionale Rosario tu che sei un po' un record man hai fatto questo record dei primati non è che vuoi tentare qualche record anche col gruppo vuoi far tentare qualche record dal gruppo sicuramente sì perché io me l'aspetto da un personaggio come te sto contaminando il gruppo anche con il Guinness stiamo pensando veramente di io l'ho buttata così è una sensazione che troverà fondamenta nel prossimo futuro magari poi non formeremo quando avremo dei dettagli però stiamo pensando sì di di preparare un Guinness World Record con il ballo country proprio bene e di questo ne parleremo sicuramente nella trasmissione più ampia una ultima domanda dopo di che passeremo un brano country vi saluteremo per rivederci al più presto Tiziana parlavi dell'evento fatto alle capannine questo grosso evento di che cosa si è trattato esattamente era il giorno di Pasquetta sì abbiamo è da tanto tempo che a Catania non si svolge il country day ai tempi almeno un tre quattro cinque anni fa forse anche di più esisteva questo evento il country day che riuniva tanta gente comunque in un periodo primaverile tipico nostro siciliano che una volta era più assolato ad essere purtroppo ogni tanto ci lascia un poco il tempo così e abbiamo fatto una giornata intera tra ballo musica giochi il toro meccanico tutto in stile più o meno country passando una giornata in allegria nel nostro modo di viverlo e che cosa avete in programma diciamo prossimamente prossimamente abbiamo in programma un country festival a Nicolosi nel periodo più o meno di luglio ma sicuramente vi daremo più dettagli la prossima volta così intanto vi teniamo sulle spine ecco bene finiamo sulle spine gli ascoltatori allora diciamo che concludiamo qui questa quest'anteprima ci avete lasciato in suspense avete fatto bene Tiziana Anastasi la fondatrice di questo gruppo Sicania West Country Manuela Pecorella Rosario Catania noi adesso concluderemo con un brano musicale e io vorrei approfittarne proprio su questo brano musicale visto che siamo nella parte del faceto visto che poi cominceremo la parte più seria della trasmissione per fare un augurio speciale di buon compleanno ad una donna speciale ad Antonella che oggi compie gli anni ci aggreghiamo anche noi auguri a Antonella grazie Antonella e chissà che non potresti anche è una brava ballerina ecco io sono ho detto un fusto che chiamiamo un fusto un fustino un tronco d'albero va bene lei è una brava ballerina bene allora grazie per essere intervenute vi vorrò qui al più presto con tutte le vostre iniziative e adesso ascoltiamo un brano country dal film Footloose allora facevo una considerazione mentre ascoltavo questo brano e l'ho presentato come brano country perché loro l'hanno scelto come brano country ma mi sembra più un brano roccheggiante piuttosto allora avete già sentito una voce ho detto che oggi è una trasmissione a nuova ma noi siamo abituati perché ospiti ne abbiamo veramente tantissimi in fatto ricordiamo che siete con Globus Radio Station siete anche live in streaming e quindi siamo visibili lo dico agli ospiti dalla parte faceta passiamo alla parte più seria della trasmissione con la presenza che io saluto naturalmente cordialmente del professore Andrea Rugolo pranoterapeuta buonasera 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 a te Andrea ed è il professore Pino Sodano insegnante di sostegno buonasera buonasera dovresti un po' avvicinarti al microfono esattamente così allora cominciamo con Andrea Rugolo io so che cos'è la pranoterapia probabilmente qualche ascoltatore non è perfettamente a conoscenza o potrebbe anche interpretare la pranoterapia come una branca non proprio scientifica non proprio medica vogliamo invece spiegare esattamente che cos'è la pranoterapia magari in semplici parole perché in semplici parole sai poi alla fine sono discorsi molto lunghi però in semplici parole in semplici parole praticamente parliamo della pranoterapia questa scienza olistica che praticamente adotta l'imposizione delle mani attraverso una concentrazione a livello mentale riesce ad applicare un calore sulle mani e magari emette delle onde curative quindi la possiamo rappresentare come una sicuramente tra le scienze olistiche la più antica in assoluto basta pensare che risale addirittura a 4000 anni fa quindi possiamo dire è la prima forma effettivamente di medicina che viene fuori la cosa che mi viene sempre da dire da pensare sa cos'è praticamente quando noi ci facciamo male quando magari tamponiamo comunque ci facciamo male a un ginocchio qual è il primo gesto che ci viene in mente andiamo a mettere per esempio la mano sul punto dolente sul ginocchio sul gomito se ci facciamo caso quel tocco ci dà una dose calmante al punto in cui abbiamo sbattuto ci fa capire che appunto l'energia delle mani ha la sua influenza non è un caso stasera sei qui perché naturalmente noi è una trasmissione sportiva tu pensa quanti problemi quanti infortuni succedono e poi parleremo anche di questo se hai avuto determinati ospiti sportivi appunto tra le tue mani come si suol dire e io faccio una domanda a testa così presentiamo anche il professor Pino Sodano che è l'insegnante di sostegno ovviamente l'insegnante di sostegno ha un compito molto importante con i ragazzi che hanno dei problemi che non sono soltanto problemi psicologici ma il più delle volte sono dei problemi fisici il compito dell'insegnante di sostegno e soprattutto qual è il compito dell'insegnante di sostegno anche ai fini del discorso che potrebbe riguardare anche l'aspetto sportivo perché nelle scuole si fa anche un po' di si fa un po' di movimento si fa educazione fisica ma allora credo che i ragazzi diversamente abili hanno diciamo questo problema che praticamente si portano o dalla nascita per conseguenze così oppure lo diventano soggetti diversamente abili quindi praticamente loro che cosa devono fare devono cercare di reagire e quindi praticamente la reazione può essere lo sport può essere di aiuto molto a questa questa reazione che praticamente praticamente loro fanno una scommessa con se stessi nel senso che si mettono in discussione per arrivare a certe performance che praticamente non possono più fare quindi lo sport per questi ragazzi diversamente abili è una diciamo uno stimolo molto forte e ci sono diciamo ragazzi che riescono diciamo ad arrivare anche a risultati molto molto importanti però come dicevi tu è un discorso soprattutto mentale certo è un discorso sicuramente mentale perché attraverso diciamo questo discorso mentale loro possono trasformarsi se si può usare questo termine e quindi migliorarsi nella vita di tutti i giorni ecco possiamo dire che diventa una specie di sfida con se stessi perché proprio per il fatto che sanno di avere una menormazione li porta devono avere più grinta devono avere più forza di volontà e questo li porta naturalmente a reagire e ad agire in un determinato modo si 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 è così è così io ho presente davanti a me il l'ex corridore di automobilismo Andrea Zanardi si sappiamo quello che è successo è stato eccezionale perché ha avuto quell'incidente che è rimasto paralizzato per quell'incidente però praticamente quando lo vedi poi che si è adattato a fare quello sport usando soprattutto le braccia non avendo più l'abilità delle mani è riuscito ad avere dei risultati eccezionali questo è una questa è la dimostrazione e lì entra la forza della mente la forza della mente e infatti io proprio mi stavo rivolgendo a te la pranoterapia come dicevi è soprattutto un discorso collegato non solo al calore delle mani ma il calore delle mani che è tutto collegato sicuramente sicuramente per poter esercitare questo che poi non è proprio una professione ma una missione chiamiamola una missione perché tutto si fa a scopo benefico per dare benessere al prossimo tutto parte dalla mente quindi tramite richiede molto allenamento comunque da parte del pranoterapeuta che non ci si improvvisa ma bisogna un attimino canalizzare questa energia come poi alla fine con elementi semplici che possono essere l'aria il sole ma anche l'alimentazione noi pranoterapeuti costantemente seguiamo un'alimentazione specifica per poter canalizzare quanto più energia possibile da donare al prossimo ho capito senti Andrea generalmente gli incidenti che capitano agli sportivi gli infortuni sono soprattutto degli strappi perché in qualsiasi sport si è soggetti agli strappi uno strappo allora facciamo finita io giocavo a tennis può capitare di strapparmi uno strappo muscolare sicuramente uno strappo muscolare al braccio oppure fare un movimento strapparmi anche un muscolo della gamba come interviene il pranoterapeuta? allora in quel caso diciamo che il trattamento noi lo appliciamo un trattamento mirato allora praticamente piuttosto che fare una valutazione su tutto il campo perché noi parliamo di campo energetico quindi soprattutto per i problemi della psiche quando si tratta di uno strappo muscolare o qualcosa del genere noi interveniamo direttamente sulla parte applicando praticamente cercando di allevare l'infiammazione che si crea sul punto specifico e quindi andando un attimino a fare delle valutazioni nel senso orario e anti-orario quindi cercando di creare di asportare con il riflesso della mano l'infiammazione interna l'infiammazione si viene a creare poi ovviamente tutto sempre va applicato anche diciamo noi diciamo sempre al cliente a chi viene a trattarsi da noi di mettere i farmaci di andare tranquillamente va tutto di supporto quindi praticamente si va a lavorare sull'infiammazione ma non basta credo una sola seduta di applicazione quante sono circa le sedute sono dodici di solito dodici trattamenti in cui noi reggiamo la recettività del paziente diciamo se c'è questa recettività effettivamente perché praticamente c'è un'unione tra le due persone se diciamo la recettività c'è allora si completa il trattamento ma nel caso in cui nella parte delle due persone non c'è questa recettività allora si sospende il trattamento perché sono due corpi che vanno a unire la propria energia quindi non sempre i risultati sono soddisfacenti professor Pino Sodano Pino quanto è importante la scuola per ragazzi portatori di handicap soprattutto di handicap fisici e quanto è importante la figura dell'insegnante di sostegno oddio la scuola è importantissima perché praticamente questi questi ragazzi li fa crescere soprattutto li fa stare diciamo in società li fa cooperare con i propri compagni quindi c'è di fondo c'è un discorso sociale perché se rimanessero rimarrebbero a casa non potrebbero avere tutte queste situazioni di progresso di andare avanti ritornando al discorso io volevo ritornare al discorso dello sport io ricordo anche un nostro concittadino catanese di cui tutti ne parlano il Danilo Ferrari famosissimo perché scrive fa il giornalista e Danilo Ferrari ha detto ultimamente ci hanno fatto un'intervista a quelli della Rai e ha parlato della sua passione per il calcio catania cioè voglio dire questo discorso dei ragazzi H che si buttano su questa passione che può essere il calcio può essere un'altra disciplina sportiva per loro è molto 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 importante perché scusami forse è una domanda troppo tecnica però te la voglio fare allo stesso anche perché è dall'alto della tua esperienza sicuramente secondo te qual è lo sport più adatto per un ragazzo che ha una menomazione ovviamente sarà in base al tipo di menomazione ma è un ragazzo che ha problemi di deambulare in maniera particolare di potersi muovere in maniera particolare non so che tipo di sport per esempio se ci sono fatti mi risulta che ci sono partite con squadre di portatori di handicap di pallacanestro o anche di pallavolo ma uno sport specifico no non c'è diciamo che in base al tipo di passione del ragazzo ma possono essere vari poi dipende dal come si suol dire che cosa loro possono dare attraverso queste loro queste parti del corpo che usano se parliamo per esempio di ragazzi sulla serie a rotelle si possono fare tante disciplini dalla pallacanestro non lo so anche l'hockey sì sì diciamo questo sport esatto sport che si usa soprattutto le mani le braccia ma anche l'atletica leggera ci sono anche le paraolimpiadi le paraolimpiadi ci fanno capire tanto che ormai veramente possono con la volontà si riesce a fare un po' di tutto veramente esatto poi oggi con la tecnologia si può arrivare a tutto le performance tipo non lo voglio nominare i Pistorius perché praticamente adesso è diventato al di là dei problemi con la legge che ha avuto però ha dimostrato che praticamente un ragazzo diversamente abile pur non avendo le gambe può correre allo stesso quindi questa questa è una bellissima cosa credo che sia una cosa eccezionale questa benissimo piccolo ostacolo musicale con un vecchio successo dei Rolling Stones è grandissimo satisfaction Globos Radio Station e sport e non solo diciamo che oggi c'è un miscuglio di tutto ballo e panoterapia e insegnamento di sostegno ma è tutto diciamo che fa brodo per quanto riguarda lo sport con me in questo momento il professor Andrea Rugolo che è un pranoterapeuta e il professor Pinoso Dano che è insegnante di sostegno e io mi rivolgo al professor Rugolo Andrea io so che il corpo ha una forma sua di energia particolare è una fonte di energia quindi essendo una fonte di energia l'energia che è calore emanando calore si può andare all'applicazione su una parte dolorante del corpo e questa è un po' la teoria della pranoterapia la teoria è quella che ogni cosa comunque ci circonda e comunque è energia quindi la famosa Laura che non è un nome è un apostolo Aura non è una bella donna di fuori dello studio ma Laura questa energia che ci avvolge e che ha diversi strati per lo meno noi crediamo in quello e ha un corpo fisico quindi la prima parte il corpo fisico e poi viene il corpo energetico e questa parte esterna che per noi diciamo ci permette di tenere il prana all'interno dell'organismo quindi cosa succede che nel momento in cui c'è una dispersione di questa energia dovuta a un costante stato di stress per esempio cioè nel tempo noi per un motivo o per l'altro abbiamo questa costanza di stress prima o poi il corpo diciamo la patologia va a scatenarsi in un determinato punto che può essere un organo può essere a livello respiratorio e così via quindi diciamo che noi pranoterapeuti non vediamo la malattia non andiamo a vedere solo la malattia la malattia dal punto di vista finale ma pensiamo che sia un percorso cioè si arriva a una determinata patologia attraverso un percorso più lungo che noi non vediamo poi effettivamente scusami io vorrei anche fare una precisazione sebbene la pranoterapia non è una scienza riconosciuta diciamo in maniera ufficiale però esiste un albo dei pranoterapeuti a cui tu fai parte un albo nazionale esattamente ognuno comunque si deve specializzare non sono campi in cui ci si improvvisa come l'acopuntura la naturopatia ci vuole un'approfondita conoscenza si ha a che fare con le persone con determinata quindi non ci si improvvisa e soprattutto si deve tenere conto di un certo regolamento è ovvio ci sarà un regolamento deontologico perché se meglio di me ci sono molti ciarlatani poi in giro infatti spesso la nostra la nostra negatività che veniamo scambiati spesso con con maghi o roba che non c'entra niente effettivamente non c'entra niente dal punto di vista della pranoterapia cioè noi non non prevediamo il futuro voglio dire noi non facciamo altro che cercare di capire le sensazioni ciò che il corpo che abbiamo davanti emette scusami Andrea e quanti sportivi hai avuto modo di trattare ma io essendo un grande sportivo perché io comunque sono sportivo faccio tennis calcio quindi tantissimi tantissimi sia amici e colleghi sono avvicinati prima con curiosità alla pranoterapia poi vedendo che effettivamente hanno dei risultati perché ci sono sono tangibili e allora devo dire che ne ho tantissimi qual è lo sport dove si rischiano più infortuni mi credo che il calcio a 5 il calcio a 5 soprattutto nei campi sintetici certo crea tantissimi problemi agli sportivi perché intanto perché è un gioco estremamente veloce sì perché è fatto di scatti esattamente quindi là si rischiano gli strappi muscolari e poi comunque e poi le cadute non so se i sintetici nel tempo ci hanno agevolato magari forse quando giochiamo nella vecchia terra battuta forse era meglio forse era anche meglio secondo me i sintetici sono negativi il sintetico partiamo dal presupposto che è sempre una plastica c'è una sollecitazione quindi praticamente va effettivamente a surriscaldare eccessivamente la pianta del piede sì quindi parte tutto da là surriscaldare la pianta del piede quindi problemi anche spesso forse al tallone da chile al tallone da chile e con le temperature alte che avremo ora in estate il problema si accentua certo quindi io direi sempre viva i vecchi campi in terra battuta forse rispetto ai sintetici quindi diciamo che il materiale vivo non è la base non è la materia prima non ti manca insomma no vabbè quello no devo dire e va bene quanti siete i pranoterapeuti allora calcoli che no no ti do del tuo calcoli che le scuole di formazione sono tante sì l'AMPSI l'AMI University quindi grossi centri di formazione sono tanti ma quelli diciamo quelli riconosciuti saranno tre quattro tre quattro poi ci sono anche dei piccoli corsi che non vanno bene quindi ma saremo già tantissimi sono anche mille 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 cento pranoterapeuti che esercitano in maniera professionale diciamo e poi per il resto dell'esame c'è chi si improvvisa ma quelli quelli sono da attenzionare magari vanno a finire su striscia poi ok certo allora io con il professor Pino Sodano visto che è più forte di lui il professor Andrea Rugolo continua a darmi del lei spero che il professor Pino Sodano continui a darmi del tu assoluto professor Sodano Pino dimmi qual è il compito di un insegnante di sostegno ecco cerchiamo un poco di anche fissare queste cose perché si sa che esistono gli insegnanti di sostegno bene o male si sa quali sono i loro compiti ma è detto proprio da un insegnante di sostegno l'insegnante di sostegno importantissimo in qualsiasi scuola che impegna in modo particolare quali sono le sue funzioni ma l'insegnante di sostegno è un discorso molto molto avargato sì lo ripeto la prima cosa che deve fare l'insegnante di sostegno è cercare diciamo un contatto duraturo tra la famiglia e la scuola cioè deve praticamente mediare questo contatto perché quando arrivano questi ragazzi nelle scuole ci sono molte problematiche sia familiari sia di altri altro tipo quindi praticamente molto all'inizio l'impatto è molto diciamo difficile perché bisogna iniziare un percorso poi chiaramente la famiglia col passare del tempo si tranquillizza e si affida all'insegnante che praticamente attraverso la struttura scolastica porta il ragazzo a delle performance che poi diciamo fanno ottenere dei risultati però ripeto il si potrebbe fare molto ma molto di più soprattutto a livello sportivo per questi ragazzi si potrebbe fare perché qua nella nostra città non è che ci siano tante strutture adatte a questi ragazzi perché ripeto i ragazzi anche se hanno delle menomazioni abbastanza gravi per esempio faccio l'esempio anche un tritrapeggico quando uno lo porta in una piscina e lo mette in acqua quello si diverte moltissimo perché riesce a nuotare riesce a fare tante tante di quelle di quelle cose che praticamente poi lo gratificano quindi credo che lo sport per questi ragazzi è una cosa da attenzionare in una maniera molto più diciamo organizzativa molto organizzata perché le famiglie purtroppo a volte sono disorientate quindi noi come le istituzioni dovrebbero agire molto di più mettere a disposizione di questi ragazzi strutture per farli diciamo fare attività sportive è fondamentale perché poi i ragazzi quando vedono oggi con le tecnologie seguono calcio seguono altri tipi di sport e sono molto coinvolti in queste cose quindi praticamente essendo coinvolti li vorrebbero anche fare questi sport tu mi hai dato per l'ultima domanda che vorrei fare ad Andrea Rugolo abbiamo parlato di tecnologia la tecnologia ci ha aperto mondi pazzeschi però nel discorso della salute nel discorso di curare l'infortune nel discorso di curare i malanni a volte la tecnologia è importante che lasci invece il posto alla fisicità di una persona giusto? in questo caso alle mani di una persona allora sì tanto per fare un esempio scusami nella chirurgia c'è la robotica però la mano è sempre la mano dell'uomo che deve guidare il robot ma la mano direttamente del chirurgo forse più importante rispetto alla robotica lo stesso caso è nella pranoterapia? sì uguale perché alla fine la manipolazione delle mani a contatto con la parte in cui vi è il dolore o comunque vi è la parte lesa diciamo del corpo riesce effettivamente entrando in sintonia in simbiosi con la parte ammalata o comunque nella parte in cui c'è il dolore entrando solo in simbiosi con questa parte riesce a sentirne le caratteristiche e i punti in cui effettivamente ci sono delle noi le chiamiamo sempre delle disfunzioni no? delle disfunzioni della parte lesa quindi solo in questo modo si entra a contatto noi abbiamo comunque parlando sempre delle energie emesse dalle mani diciamo dal punto di vista della pranoterapia l'unico modo per poter vedere l'energia emessa è la camera Kirlian dice questa camera Kirlian che è un metodo vecchio risale dagli anni 70 cosa fa? va a vedere effettivamente l'energia emessa dalle mani quindi parliamo sempre di strumentazione tecnologica comunque dal punto di vista scientifico la cosa è vista un po' male però cosa fa? mettendo le mani in questa scatola particolare è come un po' quando si fanno le lastre no? si vanno a vedere le punte delle dita che emettono determinate strade di energia questo abbiamo tutti comunque poi negli anni esercitando questa professione più si emette energia e più la forza diventa sempre più grande quindi siamo un po' tutti pranoterapeuti in verità siamo tutti pranoterapeuti possiamo farci anche l'autocarigione avendo le capacità va bene allora io pregherei il professore Andrea Rugolo che ha continuato a darmi del lei fino alla fine questa è la mia abitudine il professore Pino Sodano a salutare i nostri amici ti saluto del tuo a salutare gli amici di Globus Radio Station grazie a Radio Station Globus Radio Station Globus Radio Station grazie che ci hai dato la possibilità di parlare di argomenti molto interessanti io ringrazio voi invece per avere avuto anche la pazienza di aspettarci di essere stati qua in trasmissione con l'importante qua e speriamo di poterci anche rivedere in seguito mi auguro che abbiamo mandato qualche messaggio positivo a tutti quelli che ci hanno ascoltato io sono convinto di sì con due persone come voi che hanno spiegato perfettamente sicuramente sì e il messaggio positivo lo mando anch'io mandando un saluto grandioso a tutti gli ascoltatori e dicendo alla prossima buonasera sport e non solo la rubrica di Armando curiosità dal mondo sportivo a cura di Armando Garufi questo programma è offerto da Arti Sonanti media musicali di Ernesto Giannotta il gusto che suona è Arti Sonanti piazza Vittoria Emanuele II Catania telefono 095 35 23 7 11 Centro commerciale edile smontaggio amianto e bonifica sito linea vita sistemi anticaduta lavorazione ferro trasporto conto terzi materiale edile strada provinciale per San Giovanni Galermo 167A Mister Bianco Catania per sopralluoghi preventivi gratuiti telefona 095 744 27 40 il tuo centro commerciale edile www.ccedile.it Baccalluzzo e Venti la pirotecnica scenografica lo spettacolo si veste di oro solo da Baccalluzzo e Venti via Enrico Pantano 47 Catania telefono 095 715 04 14 all the old paintings on the tune they do the sand dance don't you know if they move too quick oh oh they fall in the something a already